Grazie a tutti Il giro è il giro di Pietro, Piero Doni, Piero Doni e con richiesto per guardare 24x7. La giro è il giro di Pietro, Piero Doni e con richiesto per guardare 24x7. Su Silvia Di Pietro, 25 per uno per lei. Lucrezia Arato, 25 per uno per lei. 25 per il 27.